Dopo tre test match giocati nel corso della preparazione estiva, primo appuntamento stagionale ufficiale per il Novara Football Club di Mister Gattuso che sabato, 10 agosto, sarà impegnato allo stadio, Città di Meda, per la partita valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Renato. Grazie a tutti.